Assassin's Creed Rogue per quel poco che ho giocato mi piace moltissimo e trovo fantastica la cosa che la Ubisoft abbia mantenuto quasi del tutto lo stesso gameplay di gioco di Assassin's Creed Black Flake che couture giocare a un gioco così in quel senso forse l'unica pecca del gioco è che ci sono leggere incongruenze con Assassin's Creed 3 per il semplice fatto che in quel capitolo a fianco alla tenuta Davenport c'erano le stalle dei cavalli e qui non ci sono o semplicemente per andare a prendere la nave in Assassin's Creed 3 ci voleva molto più tempo rispetto a Rogue ma fa niente sono cose da poco graficamente devo dire che mi piace molto anche se non è il massimo e spero che questa recensione a carto vi piaccia e noi ci vediamo al prossimo video ciao